A conoscenza, correlato al discorso dell'evento del 28 di dennaio che andremo a fare al Goldoni con i calendari dei bimbi motosi, vorremmo far sapere anche che prima era stata un'iniziativa locale e poi si è allargata nella nostra regione e anche a livello nazionale praticamente abbiamo divulgato e venduto dei calendari in merito e a quel punto siamo andati prima su Canale 5 con Striscia la Notizia e poi tramite il professore Schiavazzi a Roma che è un mio amico siamo riusciti a entrare in contatto con la Santa Sede. Qui si è mostrato anche il nostro Presidente di Ferpetuera con la cura di Livorno, con il Vescovo, Consiglio Giusti e praticamente è nata una collaborazione, una cosa che sembrava quasi irrealizzabile e l'associazione Reset con i bimbi calendari dei bimbi motosi sarà ricevuta in udienza il giorno mercoledì 24 gennaio alle ore 10 in udienza dal Santo Padre. Per noi è motivo di orgoglio e questo dimostra che con la volontà e la partecipazione niente è impossibile e questo deve essere il messaggio che passa all'intera città. Grazie.